Se me vuoi scosare, prima me lo devi domandare. E quando me l'hai domandato, io ti devo rispondere sì, perché può pure darsi che ti rispondo se no. Dai, che brutto. Mi cucina meglio. Via a strada dei campi e ritorna al paesello tuo! Adesso, subito! Ma che stai tu? Perché non posso far così? Devo far così. No, fila, fila. No! No, fila. No! Partito fermene! Ha mi ingraziato! Io qua c'è moro, ma con te non c'è ritorno! E se c'è bene, Nanda, te ne pensi, dai! È vero che tu saresti una principessa! E che ce l'hai? Scusate, è la principessa Guido Baldi. A casa. Qual è la tua principale aspirazione? Dimmela! Cosa vuoi che faccia per te? La professore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!